video in diretta quando fai una raccolta fondi non la fai per te stesso la fai per tutti perché in base anche alla raccolta fondi che fai le persone pubblico può vedere non solo i progetti che tu porti avanti o che qualcuno sta portando avanti e tu li sostieni li promuovi ma il far vedere anche ai giovani di oggi che c'è ancora qualcuno che promuove dei progetti e c'è un piccolo grosso o grande pubblico che questi progetti magari li li sostiene perciò la raccolta fondi non è solo non è un gioco è una cosa seria perché fa vedere i nostri giovani i nostri figli i valori i valori di questo di questa società di questo mondo ok di questo paese l'italia perciò la raccolta fondi è una cosa importante perché anche le persone che mettono io li chiamo i primi sostenitori i veri sostenitori anche le persone che mettono in ballo dei capitali mettono dei terreni mettono la corrente gratis mettono l'acqua gratis mettono tra virgolette la loro privacy gratis se ti danno magari un posto attaccato a loro ti danno anche fiducia ecco queste persone qua che ci mettono veramente tanto dicono io ci sto mettendo tantissimo a volte anche mille duemila tremila euro al mese a volte anche 10 mila euro l'anno 20 mila euro l'anno 100 mila euro l'anno ecco queste persone che aiutano il prossimo che danno incomodato d'uso delle aree cioè anche loro si aspetterebbero che ci fossero più persone interessati a questi progetti sociali perché primo come esempio perché sarebbe una cosa bella che tutte le persone che hanno qualcosa che possono offrire donare sia sia poi apprezzata dall'altro lato ok perciò se io ho un terreno io ho una villa disabitata io delle baite montagna io un terreno grandissimo dove tutti possono costruire le case in legno cioè io vorrei se lo do incomodato d'uso vorrei vedere delle persone che ne usufruiscono che lo tengono bene quel mio quel mio premio e che altre persone siano interessate invece ho scoperto che tutto ciò che è gratis e tutto ciò che non contiene competizione e rivalità non è mai apprezzato quando fai una raccolta fondi le persone giustamente dicono perché dovrei mettere 5 euro o perché dovrei spendere 5 o 10 euro 20 euro l'anno per fare delle donazioni perché io con 10 euro l'anno mi compro due pacchette di sigarette in più io con 10 euro l'anno potrei giocare al gratta e vinci e vinco un mare di soldi perché magari ho già giocato 5 mila euro l'anno e magari sai proprio quel 10 euro lì mi fa vincere o magari io vorrei comprare un telefono da 1000 euro e arrivo solo a 9 50 e perciò magari quei 50 euro mi potrebbero servire potrei comprare più droghe più fumo più alcol potrei pagare più prostitute ecco questo su queste cose negative le persone trovano i soldi trovo nel tempo trovano anche la voglia di condividere ok però sulle cose di utilità sociale benessere collettivo e tutte le cose che danno esempio ai nostri figli non ci arrivano non ci arrivano con la testa non ci arrivano perché loro figli è più facile insegnare la competizione la rabbia la violenza magari arti marziali magari comprargli un'arma perché si fa e più in fretta è più facile dare un bastone in mano che educare e poi genitori hanno fretta e poi genitori dove dovrebbero impararle ste cose qua in televisione nei telegiornali o dei loro genitori genitori dei loro genitori perciò sono cose che si imparano nella vita sono cose che magari alcune cose le impari a 70 anni 80 anni 90 anni invece ogni tanto c'è uno scemo come me che magari te li suggerisce prima così ci puoi pensare prima ecco quando si fa una raccolta fondi per favore non parlo solo delle raccolte fondi e faccio io ma tutte le raccolte fondi cercate di essere più sensibili cercate di capire che 5 euro a settimana danno l'esempio 5 euro 5 euro mettere 5 euro ok per dei progetti di utilità sociale ma dei progetti veri dei progetti dove ci sono delle fotografie dove ci sono dei video dove ci sono delle persone che sudano si sporcano lavorano ci mettono del tempo a fare e a curare perché ricordatevi che fare è faticoso ma c'è anche il curare perché quando crei un piccolo paradiso lo devi recintare lo devi proteggere lo devi curare perché ci sono pure delle persone che non amano fare amano prendere o amano chiedere o dopo aver chiesto prendono o magari rubano ok perciò per favore sensibilità alle raccolte fondi guardate sempre chi fa le raccolte fondi 5 euro alla settimana non sono niente 5 euro al mese non sono niente però date l'esempio anche ai vostri figli fate vedere i vostri figli che condividete condividete cose positive piuttosto che condividere rabbia persone che litigano persone che urlano i partiti politici che uno sono uno contro l'altro le notizie negative ok condividete le cose che costruiscono non le cose che distruggono che creano rivalità che creano rabbia ok io ho voluto fare questa raccolta fondi per il progetto 21 su facebook per vedere veramente a che livello è arrivata la coscienza ok perché però vi assicuro che farò di tutto per non farlo vedere alle persone alle persone che ci hanno dato ci hanno dato il terreno alle persone che pagano centinaia centinaia di euro all'anno per darci per regalarci la corrente elettrica l'acqua e speriamo che non li vedono neanche quelli che ci chiede ci donano dei materiali perché veramente mi vergogno di essere un essere umano perché veramente ci sono delle persone che si mettono in gioco mettendo dei soldi mettendo del tempo mettendo anche la faccia perché parliamoci chiaro condividere una raccolta fondi ti fai un po di nemici e cavoli perché sappiamo che tutti abbiamo bisogno del 5 euro al mese o all'anno perciò se le persone va a togliere 5 euro si arrabbiano invece le persone bisogna farle arrabbiare contro ignoti o contro gli altri allora se condividi cose negative le persone ti seguono le persone ricondividono rabbia negatività lotta odio sono i video e sono i pensieri e sono le chiacchiere più condivise in questo pianeta sentite parlare persone di progetti si incontrano persone di per progetti uno per mille se infatti vedete le richieste che ho inviato abbiamo ricevuto tre donazioni su 3.000 persone i conti sono quelli una persona su mille si salva ai tempi dicevano che era una persona era il l'uno per cento della popolazione che era evoluto che era illuminato non è vero è l'uno per mille e fra un po di anni sarà uno su diecimila ok adesso vi saluto perché anche io ho tantissime cose belle da fare come voi e riflettete riflettete e niente poi immaginate i vostri figli fra qualche anno o i vostri figli adesso e immaginate i vostri figli che condividono forse un giorno un progetto sociale di qualcuno di un loro amico o di loro stessi e poi vedete quante persone sono interessate ecco però non vi arrabbiate perché voi siete genitori siete nati prima perciò vuol dire che non avete seminato voi ok se questo mondo è pieno di ortiche e non di frutti è perché qualcuno prima non ha piantato ok o magari un su mille ha piantato gli altri mille hanno raccolto senza riseminare ciao a tutti raymond bard